Chi sono io davanti a Gesù che entra a Gerusalemme? Sono capace di esprimere la mia gioia e lodarlo o prendo le distanze davanti alla sofferenza di Cristo? Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della passione. Gesù è diverso dagli scrivi e dai dettori della legge, diverso dagli importanti di quel tempo. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Domenica delle Palme dopo aver benedetto i rami di olivo e in Piazza San Pietro si sono raccolte decine di migliaia di fedeli. Gesù è attorniato da persone che volevano ucciderlo. Sono anche io uno di loro? Si è chiesto il Papa. Come Giuda che fa finta di amare e tradisce? Anche i discepoli non capivano e si addormentavano. La mia vita è addormentata? Si è chiesto il Papa. O sono come quel discepolo che voleva risolvere tutto con la spada? O come quei giudici che cercano falsi testimoni? O come Pilato che non sa prendersi la sua responsabilità? O come la folla o i soldati che deridono Cristo? A chi di questi assomiglio? Che questa domanda ci accompagni per tutta la settimana, ha concluso Papa Francesco che ha parlato a braccio nell'Omelia.